Buongiorno Rossini TV, canale 633 del Digitale Terrestre e ben ritrovati con il consueto primo appuntamento con l'informazione mattutina. Buongiorno Rossini, ovvero la lettura in diretta dei principali quotidiani regionali che ogni giorno vi tiene compagnia con le principali notizie della provincia di Pesaro Urbino. Come ogni sabato vi sollecitiamo in ogni caso ad acquistare i quotidiani in edicola, la nostra redazione si limita semplicemente a sfogliare i titoli e gli incipit delle notizie per stimolarvi chiaramente ad approfondire tutte le notizie e farvi correre in edicola ad acquistare i quotidiani. Oggi sabato 7 novembre 2020, auguri a tutti coloro che si chiamano Ernesto ed Ernestina, chiaramente è Sant'Ernesto e ricordavo anche che il 7 novembre del 1917 in Russia venne occupato il palazzo d'inverno dando il via alla rivoluzione d'ottobre. Voi direte perché il 7 novembre e invece la rivoluzione fu chiamata rivoluzione d'ottobre, era una cosa simpatica che mi premeva sottolineare perché in Russia in quel periodo andava in vigore il calendario giuliano che corrispondeva invece con l'indicazione della data del 25 ottobre, da qui la rivoluzione di ottobre. Dopo questa piccola digressione storica passiamo alle letture dei quotidiani e dalla Russia mi piaceva arrivare negli Stati Uniti perché è quasi terminato lo spoglio delle schede elettorali e il resto del Carlino nella pagina nazionale appunto apre con arriva Joe, guerra all'ultima scheda, Biden parla già da presidente eletto ma Trump non molla ricorsi a raffica per annullare i voti ed infatti Biden la Pennsylvania e la vittoria in tasca si conta ogni scheda ma Trump non molla. Tutto si gioca a Filadelfia dopo una rimonta dei democratici che ha lasciato senza fiato il presidente in carica. Con i voti legali vinco io, molti sindaci e governatori smentiscono il tycoon, le accuse di brogli sono totalmente infondate, deve accettare l'esito elettorale. Quindi ne vedremo ancora delle belle in queste prossime ore anche se ormai pare avviato la vittoria del candidato democratico. Quindi dopo la Russia e gli Stati Uniti arriviamo alla provincia di Pesaro, partiamo con il Carlino Pesaro, frate positivo, parrocchia in tilt, titolo ad effetto sulla prima pagina dell'inserto pesarese, il caso alla chiesa del porto, gli altri quattro confratelli in quarantena, messe celebrate solo nei festivi. Le chiusure e la rabbia, la protesta dei negozi all'interno dei centri commerciali e poi i numeri del Covid. 8 decessi nelle Marche, anche un 89enne pesarese, Sgarbi sfida tutti e va a cena in un ristorante di carriera e poi in basso due notizie sportive sulla VL, Varese senza Ferrero, VL a caccia del filotto con il Tris di Vittorie e Valentino finalmente torna negativo e domani lo vedremo impegnato nella MotoGP nel Gran Premio di Valencia. Pagina 2 del resto del Carlino Pesaro, il virus fa 8 morti nelle Marche, è il numero più alto della seconda ondata. Tra i decessi un 89enne residente nella nostra provincia, è la 530esima vittima da inizio della pandemia. In provincia 51 i positivi, aumentano i ricoverati, 27 in più a Marche Nord, 2 in più in terapia intensiva e qui mi premeva sottolineare quanto affermato da Claudio Maria Maffei, ex direttore sanitario a Fano, intervistato da Simona Spagnoli. Guardare solo ai nuovi casi giornalieri fuorviante, il dato vero è la pressione sulle terapie intensive e infatti sottolinea come l'area della semi-intensiva, oltre che alla terapia intensiva, da parte dei pazienti Covid e no Covid, il loro tasso di occupazione, le indicazioni quotidiane di quanti malati vi entrino e di quanti ne escano, la percentuale dei posti intensivi rispetto al numero complensivo dei letti in una determinata struttura, siano gli elementi fondamentali per capire l'andamento dell'ondata della pandemia. Nelle Marche, secondo l'ultima rilevazione, il tasso di occupazione delle rianimazioni è del 39%, quando il valore soglia è del 30%, mentre a Marche Nord, qui a Pesaro, risulta una percentuale simile con 15 letti occupati sui 29 disponibili. Sul fronte sindacale il virus preoccupa perché la protesta delle confederazioni sanitari ospedalieri denuncia quanto i medici spostati da un reparto all'altro rischiano tutti, il segretario Moretti, troppi colleghi trasferiti, anche se non hanno la necessaria specializzazione, idem per le guardie notturne e festive. Invito all'approfondimento sull'articolo di Simona Spagnoli. La notizia della prima pagina viene ripresa all'interno a Fano, frate positivo, no ammesse funerali e i confratelli vanno in quarantena. Oggi Fano è protagonista della cronaca, lo vedremo anche in seguito. Succede alla chiesa di San Giuseppe al porto a Fano, le due funzioni religiose di oggi e domani saranno celebrate da altri sacerdoti, mentre nei feriali la parrocchia sarà aperta soltanto per le preghiere personali, quindi niente messe nei giorni feriali da lunedì a venerdì. Affissa sul portone di ingresso dell'edificio la lettera che vedete qui ripresa nel box in alto a destra sotto pagina 3, nessun servizio ai fedeli nei prossimi 14 giorni tranne che nei festivi. Padre Gianfranco fa il punto, noi siamo negativi, solo padre Giuseppe 88 anni, padre Giuseppe Di Flavio, da qualche giorno ha la febbre ma è stato subito isolato. Sempre fronte Covid, la prevenzione, abbinare allo screening sul virus quello dell'epatite C è l'obiettivo del progetto HAND, attivo anche a Pesaro. Barchieri, il primario del reparto infettivi, i pazienti riprendono al più presto le terapie interrotte, questa è una denuncia che viene da tantissimo tempo. Dopo il lungo lockdown è necessario riprendere visite e controlli sulle patologie ordinarie per favorire soprattutto le fasce più deboli, ad esempio abbinando screening per il Covid-19 e per l'epatite, visto che entrambi possono essere asintomatici e portare a gravi conseguenze. Le restrizioni, ricordiamo la regione Marche sono in questo momento in area gialla, le restrizioni colpiscono anche i tassisti e qui abbiamo un'intera pagina dedicata alla categoria in cui viene denunciata la situazione tassisti stipendio a picco, il telefono è muto, tutti chiusi o quasi, chi dobbiamo trasportare? E qui Nicola Smasetti intervista Mirko, uno dei Mirko Caselli, 24 anni, uno dei 27 taxisti presenti a Pesaro, il quale afferma ho investito 60 mila euro per la macchina e la licenza, ma sono al momento fermo. La situazione è diventata dura, c'è disagio, fatichiamo ad andare avanti, la crisi del 2009 non è nemmeno paragonabile a quello che stiamo vivendo oggi, io ho almeno il 70% di perdite in base al 2019. Potremmo integrare i servizi pubblici dove non arrivano loro, andiamo noi, ma questa è una questione ancora non risolta e lo vedremo dopo con le notizie riprese anche dal Corriere Adriatico. Sul fronte dei centri commerciali invece, non siamo negozianti di serie B, qui ci sono alcune foto del Rossini Center, Emporio della Pelle, della profumeria Ambrogiani, la protesta degli esercenti situati dentro Rossini Center e Ipercop, costretti a chiudere oggi e domani per il DPCM e c'è ancora confusione in effetti. C'è ancora confusione perché? Perché a Vallefoglia ci sono sei centri commerciali, due sono aperti e quattro chiusi, diversa classificazione. Motivazione, Nicola Smasetti lo spiega bene, i due fortunati in via Roma e via Piola Torre, quando sono stati costruiti non sono stati classificati come centro commerciale, nonostante somiglianze architettoniche con gli altri locali chiusi come il Cento Vetrine. La consigliera regionale, Micaela Vitri, spiega che bisogna chiarire al più presto il DPCM, lo chiederò subito alla regione, non si può dipendere dal tipo di licenza, diventa discriminatorio. Ed ecco perché Fano è al centro dell'attenzione questa mattina, perché ieri sera è arrivato Vittorio Sgarbi a cena ed insieme a Vittorio Sgarbi sono arrivati anche i carabinieri. Il parlamentare sfida le autorità sedute al tavolo dello Schick di Umberto Carriera in via San Francesco, i militari bloccati fuori dalla porta. Angelica Panzieri e Marco Del Rico raccontano come si è svolta la vicenda, alla fine è arrivato come da programma Vittorio Sgarbi è andato a cena nel ristorante Schick di Umberto Carriera dietro al municipio, compresa una troupe di Mediaset. Si è accomodato, accompagnato della sua assistente e ha voluto cenare insieme a Carriera per portargli il suo sostegno. A un certo punto sono arrivati i militari dell'arma, hanno contestato la violazione delle norme del DPCM chiedendo di accedere al locale per identificare i partecipanti, ma è stato loro impedito l'accesso per tutta la serata. Nel frattempo si sono radunati altri ristoratori, esponenti delle varie associazioni, i quali hanno protestato chiaramente con veemenza ritenendo la cena una provocazione inaccettabile e chiaramente si è schierato anche il sindaco Seri il quale ha condannato l'iniziativa ritenendola irrispettosa nei confronti di altri ristoratori che invece osservano le leggi. Mentre arrivava Sgarbi a Fano nella mattinata di ieri si è svolta a Pesaro, gli sono svolti gli stati generali del turismo, Ricci afferma, il sindaco servono più alberghi di maggiore qualità, Sport e Nuovo Padas, il turismo spera nel 2021. Assieme per ripartire con nuove sfide, turismo, cultura, ambienti e spazi aperti. Di questo si è parlato negli stati generali del turismo ieri in diretta streaming dopo anni di stati generali in presenza. Ha aperto i lavori coordinati dal vice sindaco Daniele Vimiti il cortometraggio Movies in a Bottle, un video quiz di promozione turistica realizzato da Ivo Guerra e Alex Nucci. Tante le opere presentate per la città, in special modo ricordiamo come l'assessore all'operatività Enzo Belloni abbia nuovamente ripromesso e ha riaffermato che il 30 giugno 2021 il vecchio palasport di Viale dei Partigiani verrà aperto e disponibile soprattutto per il Roff e poi dal 20 settembre al 10 ottobre per i campionati europei di ginnastica aerobica ed acrobatica che saranno il fiorell'occhiello della programmazione sportiva 2021 della città di Pesaro. E poi il 28 marzo i campionati italiani di Duathlon e nel 2023 i Mediterranean Beach Games. Giornata di commemorazione oggi pomeriggio a Cristo Re per il saluto a Fabio Renzi detto appunto puntone, per lui un maxistriscione come vediamo nella foto. La commemorazione inizierà alle 14 fino alle 16 nello storico campetto della parrocchia. Gli amici appunto scrivono parla di te ogni centimetro di questo cemento. Tutti al lavoro dalla mattinata di ieri abbiamo visto avvicendarsi nello storico campetto di Cristo Re decine di ragazzi preparati in vista della preparazione della commemorazione. Sarai sempre il nostro puntone di riferimento, chiaramente si gioca sulle parole. Andiamo avanti e parliamo della vicenda Filisetti che è stata affrontata anche nei giorni scorsi, la bufera sul provveditore agli studi. No ai giovani bamboccioni, ecco la voce che arriva fuori dal coro delle proteste e quella dell'avvocato Italo D'Angelo. Mentre Carlo Ciccioli di Fratelli d'Italia attacca il trionfo del pensiero unico non è tollerante. Il messaggio di Filisetti rivolto agli studenti di tutte le marche in occasione della festa delle forze armate celebrata il 4 novembre scorso ha sollevato numerose polemiche. È stato tirato in ballo il sacrificio dei giovani soldati ma ha subito anche tantissime critiche il direttore scolastico Marco Ugo Filisetti. Si schiera al suo fianco il Carlo Ciccioli, caporgupro di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, lo difende e parla di attacchi indegni. Il trionfo del pensiero unico non è tollerante in alcun ambiente culturale. Insieme a Filisetti si schiera anche l'avvocato Italo D'Angelo, ex consigliere comunale ed ex questore, candidato a consigliere regionale nelle liste del centro-sinistra in appoggio a Mangialardi, il quale afferma che Filisetti ha detto una cosa di buonsenso, non mi sembra abbia chiesto grandi sacrifici come invece hanno affrontato i ragazzi che andarono in guerra. Il ministro però vuole vederci chiaro ed ecco arriva una nota da parte del ministero che chiede spiegazioni sul contenuto e sulla finalità della lettera inviata appunto da Filisetti. Quindi interviene Lucia Azzolina dopo le polemiche e l'interrogazione parlamentare pretendendo una relazione. Vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni. A pagina 11 imputati risarciscono ma la truffata non ci sta, due casertani fanno un raggiro con falsa inserzione per un iPhone, una ragazza di tavuglia ci cade pagando 350 euro, poi reagisce a modo suo, ovvero gli avvocati hanno messo in piedi una scorciatoia legale, ripagando il danno hanno ottenuto l'estinzione del reato. Un'altra grave perdita per Pesaro, muore a 62 anni Gigi Andreani, aveva allenato la Lupo, lascia la compagna un figlio, ora si occupava di vendita di energia elettrica, i funerali fissati per lunedì 9. Luigi Andreani da giovanissimo aveva collaborato con la storica emittente radiofonica Stereo Pesaro 103 e aveva anche diretto alcune radiocronache della Victorias Libertas Scavolini, era molto vicino al basket e specialmente alla Lupo-Palacanestro la storica società cestistica di Pantano. Durante il Rossini News di ieri ci eravamo anche soffermati sull'incidente sulla Fogliense, schianto in auto tra auto, 47enne grave, trasferita in eliambulanza a Cesena. Sembra che all'origine ci sia un mancato rispetto della precedenza, disagi al traffico, la strada è stata chiusa per circa un'ora. Pagina economica, i nodi dell'economia, risico delle banche, incognita sugli immobili, banca intesa e proprietaria del palazzone di via Gagarin che andrà probabilmente in vendita, è il pezzo più facile da cedere. Mentre Gastone Bertozzini, un articolo che fa seguito alla prima pagina, reclama come per le piccole aziende il credito sia ancora un fantasma, un articolo molto interessante e una denuncia particolare in quanto il 94% del sistema imprenditoriale italiano, naturalmente, è composto da aziende con non più di 15 dipendenti, ma che tuttavia rappresentano la vera spina dorsale dell'economia. E qual è l'atteggiamento del sistema credito nei loro confronti? Gastone Bertozzini dice, direi deludente, non esistono più attori professionisti capaci di dialogare con il microimprenditore, interpretare il suo stato di bisogno e le sue esigenze di sviluppo, solo e sempre garanzie, garanzie, garanzie. Veniamo alla vicenda del biodigestore che non manca mai, a Pesaro Pian del Bruscolo l'amministratore delegato di Marche Multiservizi spiega in diretta online quali sarebbero i guadagni sociali grazie al futuro impianto. L'articolo di Selidea Vitali Rosati inquadra la situazione, se il biodigestore fosse un quadro, allo stato attuale mancherebbe la parete dove appenderlo. Cioè l'istituzione competente, leggi ATA, non ha ancora approvato il piano d'ambito dei rifiuti provinciali. Lo sarà nel 2021 e da qui l'incertezza legata a questo argomento. Ucchielli allarga ancora le braccia, qui non si è presentato nessuno, continua a stare sotto vento, il sindaco non parla del biodigestore, non dice né sì né no né forse niente, ufficialmente non ha opinioni sull'argomento. Biancani invece si spende per la RSA Bricciotti, abbiamo potuto ieri vedere la lunga intervista a Rossini News da parte del consigliere Biancani. La struttura per anziani di Monbaroccio era stata evacuata il 2 ottobre scorso per crepe nei muri e va risistemata quanto prima, perché l'Asul potrebbe ospitarci naturalmente 40 persone, ma ne ha sempre avute la metà per varie instabilità. Il sabato possiamo anche alleggerire l'atmosfera con il blob di Franco Bertini, mi piace sempre leggerne almeno un paio. Se proseguirà l'obbligo di chiusura alle 18 invece del Cenone, i nostri ristoratori organizzeranno il merendone di Natale, Panettone con la mortadella e Pandoro Rossini. E poi, come sempre, l'albero di Natale di Piazza del Popolo è arrivato con largo anticipo, ci avesse almeno portato pure il vaccino anti-Covid 2019, magari direte voi, magari. Fano, il Covid spopola il centro, viaggio tra le vie deserte, temperature primaverili ma il cuore della città non riesce più a battere, tavolini vuoti, clienti che non ci sono e desolazione nei tempi della pandemia, delle numerose attività che si affacciano in piazza. Infatti soltanto 4 erano aperte, ma i loro tavolini sono rimasti per lo più vuoti. E ricordo ai più giovani, ma non solo, che da oggi è il primo weekend con il coprifuoco, dalle 22 scatta l'assessore Sara Cucchiarini, da ieri sera abbiamo potenziato i controlli con una pattuglia e tre agenti a bordo fino alla mezzanotte. Quindi primo weekend per cui alle 22 questa sera tutti a casa. In prima pagina viene poi riportata a pagina 17 Pedini a Pechino, maxi showroom e la prima mossa dei nuovi soci cinesi, un'apertura nei mercati dei paesi asiatici. Cosa è successo? Dopo un anno di trattative, ieri si è chiuso l'accordo tra Daniele Radi, titolare della Pedini Cucine, ed un grande gruppo cinese che opera nel settore del mobile arredo. Non solo una produzione, ma anche commercializzazione con una grande forza nei paesi asiatici, ma anche in Canada e negli Stati Uniti. La grande mossa dei nuovi soci di maggioranza sarà un gigantesco showroom con marchio Pedini a Pechino. E veniamo alla pagina di Urbino. Con i musei chiusi pensiamo a seminare Giuseppe Magnanelli, il priore della confraternita di San Giovanni. Questi mesi vanno sfruttati per prepararsi alla ripartenza. Dopo tre mesi estivi in cui l'oratorio di San Giovanni ha ospitato 28 mila presenze con file lunghissime come non si erano mai viste. Quindi adesso in questi momenti di chiusura si procede a un lavoro di ripensamento per la promozione, sperando che l'incubo Covid finisca al più presto. La stessa cosa fanno chiaramente a casa Raffaello, chiusa, lavoriamo in silenzio. Il presidente dell'Accademia Luigi Bravi spiega che in questo periodo l'istituzione si prepara al futuro ritorno dei turisti. E veniamo alla pagina sportiva del resto del Carlino. Pagina sportiva, un weekend pieno di partite, sia di calcio che basket, che di calcio a 5. Partiamo oggi alle 15, al Mancini Fano arriva la corazzata su Tirolo, un anticipo di fuoco. Come scrive Silvano Clappis, un avversario quotato con voglia di riscatto, destro chiede entusiasmo, fisicamente stiamo bene, serve convinzione. Quindi debutto sulla panchina granata per il nuovo mister destro. Chiudere gli spazi, dare ritmo ed energia alla gara. Questa è la strategia espressa dal nuovo tecnico Flavio destro. Un nuovo tecnico anche sulla panchina della Vispesaro che andrà a incontrare invece la Feralpi Salò, un avversario ideale per tentare un approccio alla partita più offensivo, ma i biancorossi si troveranno di fronte a tanta qualità e nomi importanti. Indisponibili ancora Lazzari, Tessiore e De Giacchi. Cannavò in dubbio, torna a disposizione D'Eramo. Calcio a 5, Italservice, ritorno a casa contro il Matera. Dopo 9 mesi la squadra gioca in campionato al Palanino Pizza oggi alle 16. Ne approfitto subito per dire che Rossini TV trasmetterà in diretta, a partire dalle ore 16, la partita contro la signor prestito CMB di Matera. Pensate che si torna a giocare a distanza di 9 mesi al Palanino Pizza, dopo 4 trasferte consecutive oggi si disputa la gara valida per l'ottava giornata di Serie A, una gara anticipata per gli impiegni dei biancorossi in Champions League previsti per fine novembre, quindi un calendario abbastanza sfalsato. Il nostro concittadino più famoso Valentino Rossi fa felici tutti, con lui sarà un altro gran premio. Il dottore negativo e oggi scende in pista per le prove libere alle 10.55 a Valencia e domani il suo ritorno ridà interesse ad un finale finora senza protagonisti. VL contro Varese domani sera 20.45, tanta voglia di Tris, da due stagioni Pesaro non vince tre partite consecutive, Elisabetta Ferri che è un'esperta di numeri e statistiche lo sottolinea nel suo articolo, ma Coach Repes avverte, guai pensare ad una gara abbordabile, non dobbiamo avere l'ansia da prestazione ma solo seguire le nostre idee. Domani la diretta Rai Sport alle 20.45, sperando di non andare all'overtime e fare la fine della scorsa settimana con Eurosport e il pasticciaccio brutto di Eurosport di cui tutti siamo a conoscenza. Aurora Fano entra nella storia, per la decima volta è scudetto ai campionati italiani di ginnastica ritmica di Folgaria, è stato uno strepitoso successo. E veniamo al Corriere Adriatico. La giostra dei traslochi Covid, tensioni a proteste di operatori sanitari per i trasferimenti di reparte personale tra Pesaro e Fano, nelle Marche ieri altri 8 decessi, crescono ricoveri contagi, 697, il premiato alla provincia di Ancona. E poi il box dedicato a Pieralisi, lo zio delle Marche, l'ingegnere aveva 82 anni, si è spento ieri. Il dossier dedicato alle case di riposo RSA, il virus torna a correre come a marzo, Maria Teresa Bianciardi, dopo i sopralluoghi delle RSA marchigiane, da ieri l'assessore regionale alla sanità Salta Martini ha la situazione aggiornata dei contagi nelle strutture che ospitano anziani. Oltre 230 ospiti infetti, molti asintomatici, in 13 strutture, più numerosi operatori a cui si aggiungono i 112 pazienti già trasferiti nelle tre RSA Covid di Campofilone, Galantara e Chiaravalle. A pagina 6, poi potete leggerne gli approfondimenti. Arrivano anche i Covid Hotel, pronte due strutture per l'intera provincia, una a Fano e una a Pesaro, poi lo vedremo all'interno, spazi aperti e fondi europei, le linee guida per il turismo. A pagina 2 il ricordo di Pieralisi, l'uomo innovatore, come vedete. L'industriale Jesino è morto ieri all'età di 82 anni, dopo un intervento chirurgico all'ospedale di Pesaro. Durante l'adegenza era il risultato anche positivo al coronavirus. La camera ardente sarà allestita domani alle 10 nella sala del commiato di fronte alla sua azienda. I funerali si terranno lunedì alla 14.30 al Duomo di Jesi, il cordoglio delle Marche. Per chi avesse voglia di scoprire chi è stato? Gennaro Pieralisi, qui in questo box a pagina 3, la storia della sua vita, della sua azienda, delle sue iniziative. Torniamo appunto al dossier di Maria Teresa Bianciardi, ripreso appunto a pagina 6, l'assessore Salta Martini, dobbiamo risolvere subito alcune criticità nei turni. Fabriano, Sanseverino, Macerata e l'Oro Piceno sono ad alto rischio. E veniamo agli stati generali del turismo, anche il Corriere Adriatico se ne occupa abbondantemente, hotel, spazi aperti e fondi europei, le grandi manovre fanno turismo, la strategia di Pesaro legata al recovery plan, i progetti da presentare, le destinazioni, l'obiettivo, cittadino, l'obiettivo a livello provinciale. Gli stati generali di ieri con esperti ed amministratori, Ricci ripotizza una riconversione degli alberghi, ma anche nuove aree pedonali e lancia progetti per il recovery plan per 500 milioni di euro. Ieri 20 mila utenti unici sono stati raggiunti in streaming, moltissimi hanno postato centinaia di commenti e ricondiviso contenuti e riflessioni insieme alle decine di ospiti che hanno preso parte agli stati generali. Il turista ideale è quello francese, di noi ama tutto, questa è la relazione di Romanelli, il sales director di The Data Appeal Company in Italia, quindi i nostri cugini di Oltralpe siano i benvenuti quando potranno riammirare le nostre bellezze regionali. Parcheggio sotterraneo, questo è lo scoop di Belloni, l'anticipazione in piazzale d'annunzio, avrà 85 posti auto, 40 in vendita ai privati, un parcheggio sotterraneo da 85 posti sul lato di Levante sotto piazzale d'annunzio. E qui Thomas Delbianco racconta la valutazione del progetto messo in campo dal nostro comune. Il 30 giugno, anche qui viene ripreso, potrebbe vedere la luce, il vecchio palace di via dei partigiani ristrutturato. La giostra di Traslochi, l'ospedale deroga dal piano pandemico, tensione tra gli operatori di Marche Nold per il rimescolamento di personale e reparti sporchi e puliti. Per governare i tanti accessi al pronto soccorso, Capalbo ingaggia un'agenzia per la sorveglianza armata. presentato un ricorso contro le mascherine obbligatorie a scuola, un'iniziativa dell'avvocato Orciani e di altri genitori delle scuole primarie. Mascherina anche quando i bambini sono seduti al banco, viene contestata dall'avvocato Giovanni Orciani, il quale ha inviato al Consiglio d'Istituto della Figlia un ricorso per impugnare la circolare che impone le mascherine. In arrivo nuovo personale per tracciamenti e tamponi, Carlotti dell'area Vasta 1 lancia l'allarme per la scarsità dei testi rapidi. Stiamo valutando l'utilità del nuovo sistema facilitato per il contact tracing. Penalizzate le piccole imprese a pagina 15, difesa la grande distribuzione, l'appello di confartigianato ieri dal prefetto. Nei centri commerciali chiuse solo le attività artigiane, un segnale molto pesante. Raccontavamo prima della proposta dei taxisti di integrare il trasporto pubblico, avevo promesso di poter ritornare sulla notizia, infatti il Corriere Adriatico la riprende. Aiuto privato al trasporto pubblico, finalmente la trattativa è aperta. Gasparoni ha incontrato l'assessore regionale Castelli, ma le marchi ancora sono reticenti verso questa soluzione, lo diciamo da mesi, che bisognava integrare il trasporto scolastico con l'aggiunta di mezzi privati che potessero attenuare la capienza degli autobus. L'azienda è in attesa dei decreti attuativi che permettano di ridistribuire ristori e agevolazione. Covid hotel. Come abbiamo visto in prima pagina, saranno due. Uno è il plaza a Fano e l'altro un albergo di Pesaro. Metteranno a disposizione 136 camere e ospiteranno in un caso pazienti positivi e nell'altro persone in quarantena. Quindi una chiamata alle armi nella battaglia contro il coronavirus per gli alberghi, così come era successo nella gestione del post-terremoto del 2016. Anche il Corriere Adriatico dedica a Sgarbi a cena allo chic di carriera e la serata di ieri, giovane e interessante per la politica, con il critico e anche altri commensali, tutti rigorosamente senza mascherina. Arrivano i carabinieri. Thomas Delbianco racconta la serata di cui abbiamo già parlato prima sul resto del Carlino. E oggi in piazza i traditi dall'ultimo decreto Covid. Rappresentiamo interi settori e non lottiamo per noi stessi. Di Remigio vogliamo sensibilizzare. Alle 18.01 il futuro riparte dopo, anzi il futuro dopo le 18.00. Sport, ristorazione, arte e musica. Questo è il manifesto della manifestazione di questa sera che Rossini TV ha il piacere di seguire, come vedete in sovraimpressione, in diretta ci collegheremo alle 18.30 da Piazza del Popolo per seguire la manifestazione con interviste ai vari protagonisti, ai vari personaggi che sensibilizzeranno la nostra cittadinanza sui loro problemi. Oggi l'addio a Fabio Renzi, funerale a Cristo Re con diretta Facebook dei Senza Giacca a partire dalle ore 13.30. Sarà il momento dei ricordi e dell'affetto per Fabio Renzi scomparso appunto martedì. Quindi tutti sintonizzati sulla pagina Facebook dei Senza Giacca per seguire queste due ore e mezzo di commemorazione dell'indimenticabile Fabio. A Urbino, postazione 118, rivedere i criteri. Il consigliere regionale Rossi, area vasta 1, situazione in quattro punti delle zone interne, valori di economicità disattesi. L'interrogazione evidenzia perché sarebbe meglio poter garantire interventi con personale ASUR anziché privato. Quindi invito a leggere l'articolo di Gianluca Morgia per approfondire la questione. Mentre a Fano, velocemente, la casetta presidio del parco per varie attività aggregative. È stato presentato lo studio di fattibilità per la ristrutturazione dell'ex centro sociale Grizzly. Veniamo al biodigestore. Anche qui l'ASET entrerà nel progetto, ma la scelta del sito non è un problema. Il sindaco Seri rivendica la partecipazione alla società di scopo creata da M Marche Multiservizi, dimensione adeguate al territorio. Anche qui il confronto. Sono sei i siti ipotetici per il biodigestore fanese, tre valutati da ASET, Falcineto, Torno Bellocchi e Monteschiantello, e tre valutati da Marche Multiservizi nei comuni di Pesaro, Montelabate e Vallefoglia. Veniamo allo sport. Prima di concludere, Di Donato studia la Vis, ma niente rivoluzioni, per la trasferta di domani a Salò ci si aspetta un cambio di mentalità, altrimenti potevamo tenere il mister Galderisi, diranno i tifosi bianco-rossi della Vis Pesaro. In avanti si dovrebbe tornare alla formula del trequartista più due attaccanti. Invece oggi appunto appuntamento alle ore 15 allo stadio Mancini di Fano. Ricordo che si gioca a porte chiuse, quindi soltanto su Eleven Sport, fan of Sud Tirol, anche qui debutto del neo allenatore Destro, Flavio Destro, con un'attenzione speciale alla fase difensiva. Vedremo se l'impresa funzionerà, anche perché il Sud Tirol è terzo in classifica, quindi una vera corazzata. Veniamo alla VL, Repesa Almiele, bravi e attenti i miei ragazzi, qui il racconto della conferenza stampa tenuta ieri, a cui abbiamo preso parte e di cui vi abbiamo documentato durante il Rossini News delle 19.40, il coach della VL dopo il bastone passa la carota per stimolare la sua squadra. Domani sera c'è Varese. Ricordo che ieri c'è stato l'esito dei tamponi su cinque giocatori di Cremona, che sono risultati positivi. Cremona, ricordo, che ha giocato contro la VL domenica scorsa. Oggi sono attesi per questa mattina, più tardi nel primo pomeriggio, l'esito dei tamponi sui giocatori bianco-rossi. Vedremo come andrà a finire. E chiudiamo con la pagina dedicata alle prossimi appuntamenti che scorrono in sovraimpressione. vi ricordo il Rossini Week, oggi alle 13 in replica alle 19.30, domani 9, 13.30 e 20, il riassunto delle principali notizie del nostro notiziario serale delle 19.40, appunto riassunte in questa trasmissione. Il Vallefoglia Magazine, il telegiornale appunto di Vallefoglia è in onda oggi alle 12, alle 20.30, domani alle 14.30, alle 19.30, lunedì alle 9, alle 13, martedì alle 17.30, condotto e presentato dal nostro Andrea Sabatini. Insieme a Canestro la puntata numero 2 è andata in onda giovedì, verrà replicata oggi alle 13, alle 22, domani alle 10 e alle 15, quindi prima dello scontro con Varese potete rivedere la simpaticissima trasmissione che ha visto per protagonisti di Walter Magnifico, Marco Filippovic e Michele Zavagnini, più il collegamento via Skype con Kendall dello Stato di New York, con Roosevelt Bui. Infine, ripetiamo, oggi pomeriggio, ore 16 in diretta, Italservice Pesaro, signor prestito CMB Matera, ottava giornata del campionato di Serie A di calcio A5. Le dirette di Rossini TV non si fermano qui, alle 18.30, come dicevamo, saremo in piazza per la manifestazione 18.01, il futuro dopo le 18, l'evento che rappresenta il disagio di tante categorie abbandonate, lo sport, la ristorazione, l'arte e la musica. Non mi resta che salutarvi, lasciarvi al meteo e augurarvi un bellissimo fine settimana e rinnovarvi l'appuntamento a lunedì mattina alle 7.40 con la lettura dei giornali e buongiorno Rossini. Grazie. Grazie per l'accol